Iniziamo a mettere a soffriggere i gamberi, un po' di prezzemolo, aglio, olio extravergine d'oliva e lasciamo andare per un po'. Poi sfumiamo con del vino bianco. Un po' vermentino di Sardegna, signori. Lasciamo sfumare. Aggiungiamo a questo punto il pomodoro, polpa di pomodoro finissima. Il nostro peperoncino. Il peperoncino. E aggiustiamo poi di sale durante la cottura. Abbassiamo quindi la fiamma e lasciamo cuocere il nostro sugo. Non mettete troppo pomodoro perché altrimenti troppo rosso non è un granché. Deve rimanere un po' chiara questa pasta, rosa. Un po' di prezzemolo tagliato a parte che utilizzeremo a fine cottura per decorare. Aggiungiamo la fregola, un po' d'acqua di cottura e lasciamo finire la cottura così, tutto insieme. Buon appetito!